ecco siamo andati via da paternò siamo arrivati qua masca lucia solito posto solita bancarella cioè io non lo so proprio è fissato comunque questa è la bancarella più famosa di masca lucia grazie a te giusto ma è diventata famosa sta bancarella dici che ci passa 1 euro e 50 per te 1 euro e 50 da oggi perché ormai sta diventata bancarella famosa si bella vedete non mi dà manco retta non capisco sto facendo il video non ci interessa per ora un vestito a rose no no uno è questo vestito a rose bello vediamo provatillo vediamo bello ti sta a mono gli starebbe bene a katia guarda come gli starebbe a katia mi ascolta un secondo sto facendo il video come gli starebbe a katia può fare la vendermi comunque ragazzi scelte conte sempre sta riminando tipo all'ikea lui stava facendo quello che fa qua vi ricordate all'ikea la lui sta facendo stava facendo quello che fa qua scelto va bene cuore vedi che siamo di nuovo a masca lucia quindi tra poco tra poco cosa c'è tra poco la pisella ma chi è anche tu ora fai cosa sì ma poi ti dare più soldi piccolo bello e quanto costa 3 euro e 3 euro cosa ti fa con il seno invece questo vediamo mettetelo davanti quanto costa 3 euro ragazzi mi fai andare la mia ex moglie esce con 3 euro addosso guardate no vabbè meraviglia